rispetti Nina, benissimo, vedrai che la troveremo sicuramente quello che hai di fronte e non solo Nina poi, che rispetti tutto rispetta rispetta è la prima cosa si vedrà, si vedrà, ok qui hai un parco uomini abbastanza facoltoso vai avanti che io ti seguo ah, benissimo io parlo io, dico la verità e non è una cosa più importante io rispetto perfetto, vedrai che stasera troverai quello che cerchi intanto guarda ti consegno il messaggio e speriamo che questo messaggio cambi qualcosa della vita esatto speriamo speriamo sempre che il 2024 porti merda oh, 2024 che ormai